Minacciava un'esplosione catturato all'alba dopo oltre 20 ore, incubo finito a Pozzuoli dove un 25enne si era barricato in casa con la madre minacciando di far esplodere la palazzina con le bombole del gas. Chiedeva un lavoro, terrore stamane anche a Napoli dove un 25enne armato ha minacciato i vicini preso dopo un inseguimento. Carabiniere ucciso ancora a punti oscuri, gli inquirenti confermano che sull'omicidio del vicebrigadiere Mario Cercello Rega ci sono ancora molti elementi poco chiari. Da Iusa intanto parla la mamma di Eldel, siamo devastati preghiamo per la vittima. Banda di ladri, sgominata a Napoli, fatale l'ultimo colpo al centro Ormeggi che aveva fruttato a 250 mila euro. 11 gli arrestati erano specializzati in furti nelle abitazioni lasciate incustodite. Nella banda anche chi doveva cancellare le tracce lasciate negli assalti. Spari contro l'auto del padre del killer, inquietante episodio a Salerno, sconosciuti hanno fatto fuoco contro la vettura del padre di Eugenio Siniscalchi, ritenuto l'assassino di Ciro Donofrio. Il pusso è ramazzato il 30 luglio del 2017 in Mia Kennedy, un avvertimento per non farlo parlare. No al panino da casa, ma stella, giusto così. Il sindaco di Benevento commenta la decisione della Cassazione che promuove la sua linea portata avanti sulle mense scolastiche. Quante cattiverie contro di me, sentenza che garantisce l'eguaglianza tra i ceti. Festa spacca il Movimento 5 Stelle, ma il PD lo boccia. Il sindaco di Avellino supera l'esame dell'aula, approvate con 20 voti le linee programmatiche. Sì, del Pentastella Turciuoli, parere negativo dei rappresentanti del PD e di Cipriano, che apre al dialogo, ma dice, dimostri di essere un sindaco libero. Buongiorno dal TG 696, in apertura c'è la cronaca. Dopo 20 ore di trattative è stato bloccato il giovane che da ieri si era barricato in casa, minacciando di far saltare tutto in aria. La squadra speciale dei carabinieri ha effettuato il blitz dal balcone alle 4 di questa mattina. Vediamo il servizio. L'intervento delle forze speciali dei carabinieri è scattato alle 4 della notte dopo 20 ore di trattative. Flash e botti hanno distratto il ragazzo Giuseppe Di Bonito, 25 anni, con problemi psichici, bloccato dai militari che si sono calati in casa dal quarto piano dello stabile. L'uomo non ha opposto resistenza, la madre estremata è stata soccorsa dai sanitari del 118. Il 25enne per l'intera giornata di ieri ha tenuto sotto scacco alcune palazzine del quartiere popolare di Monte Ruscello alla periferia del comune, minacciando un gesto folle. Chiedeva un lavoro e una nuova casa e nonostante i tentativi di mediazione delle forze dell'ordine, la situazione si stava facendo via via più pesante, fino alle 4 di questa mattina quando è scattato il blitz. Quando lo hanno portato via i carabinieri sono stati applauditi dalla gente che è rimasta col fiato sospeso per un giorno intero. L'uomo deve rispondere di lesioni, violenza, resistenza e minaccia pubblico ufficiale ed è ora in carcere. Sono stati sequestrati anche due coltelli, due bombole di gas e accendini. Un carabiniere, livemente ferito, ha riportato dei graffi in viso guaribili in 5 giorni. Intanto un episodio analogo è avvenuto nel quartiere della Pignasecca, Napoli, dove un 21enne questa mattina, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, ha seminato il panico all'interno dello stabile dove vivono i suoi parenti, cercandoli in rifugio. Il giovane poco prima aveva preso parte a una rissa che era all'interno di un panificio del posto e terminata con danni al negozio. Proprio a causa di quella lite era giunta una segnalazione ai carabinieri in cui si parlava di un giovane armato. Il ragazzo, dopo i fatti, si è barricato nel palazzo dove abitano i nonni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri in assetto antisommossa e dopo un lungo inseguimento è stato bloccato e portato in carcere. La polizia di Capri ha avviato le indagini su un grave episodio di violenza che ha avuto per vittima una ragazzina a 13enne, figlia del giudice della Corte d'Appello di Napoli, Furio Cioffi. Secondo quanto denunciato dalla vittima, un gruppo di una decina di ragazzini ha prima strattonato la 13enne a cui è stata poi strappata la borsetta e danneggiato il cellulare. La ragazzina sarebbe stata poi inseguita e insultata. L'episodio è accaduto lunedì intorno alle 11 di sera in Via Matteotti nel cuore dell'Isola Azzurra. Si è trattato di un'azione in perfetto stile baby gang inscenata da un gruppo di età compresa tra i 10 e i 13 anni che si è consumata senza che nessuno intervenisse né prima né durante l'aggressione. La 13enne è stata costretta a far ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale Capi Lupi. Carabiniere è ucciso. La madre di uno degli arrestati dice siamo distrutti e non mi spiego la reazione di mio figlio. Intanto si continua a indagare anche sulla vicenda della foto. la procura militare ha aperto un fascicolo. Vediamo il servizio. Io e mio marito siamo devastati. I nostri pensieri sono per l'ufficiale Rega. Queste le parole di Lee Elder, madre di Finnegan, il giovane americano che con 11 coltellate ha ucciso a Roma il vicebrigadiere Mario Certiello Rega. Intervistata in esclusiva da News Mediaset, la donna ha detto che a breve sarà in Italia appena le daranno il permesso. Finne è cresciuto qui a San Francisco. L'altro ragazzo non lo conosco. Abbiamo totale fiducia nella giustizia italiana, ha aggiunto la donna. Non ho parlato con mio figlio. Non riesco a spiegarmi questa sua reazione. È un ragazzo riflessivo che ha anche molto sofferto. Ed è vero che usava la marijuana, che in California è legale, e lui la prendeva con la ricetta medica per alleviare il dolore di una menomazione fisica, perché in un incidente ha perso un dito e la mano sinistra è in parte paralizzata. Intanto le indagini continuano. Ieri, attraverso una conferenza stampa, i carabinieri hanno chiarito alcuni aspetti della vicenda. Nel frattempo continua a creare problemica lo scatto nel quale si vede Gabriel Christian Natal con gli occhi bendati e le mani legate dietro la schiena. Sulla foto ora scende in campo anche la procura militare. Un fascicolo di inchiesta è stato aperto dal procuratore Marco De Paulis, che vuole accertare se siano stati commessi dei reati nelle fasi successive all'arresto dei due giovani americani. Beni per circa 6 milioni di euro sono stati sequestrati dai carabinieri a un presunto prestanome del clan camorristico Cava e Allamoglie. Si tratta di Francesco Mari, 72 anni, e della consorte Bruna De Luca, 71, i militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dal PM della DDA di Napoli, Liana e Sposito, hanno individuato le proprietà in diverse parti d'Italia, a Nola, a Casa Marciano, a Carife, a Centola, Roma, Ancona, Torino, Milano, Siena e Trieste. I carabinieri di Napoli hanno sgominato una banda di ladri specializzati nei furti. In appartamento 11 le persone finito al centro di un'inchiesta coordinata dalla procura partenopea. Tra loro c'era anche chi aveva il compito di ripulire le eventuali tracce lasciate dai complici che materialmente effettuavano i furti. Vediamo il servizio. Novi italiani, un romeno e un giorgiano, nel mirino dei carabinieri di Napoli, Chiaia, che hanno sgominato una banda che aveva messo a segno numerosi furti in abitazione, nel napoletano, commessi tra il 2015 e il 2016. Tra loro c'era anche chi si occupava di controllare e cancellare eventuali tracce lasciate dai complici durante i furti. Topi di appartamento finiti al centro delle indagini dei militari coordinati dal sostituto procuratore Sergio Amato e dal procuratore aggiunto Rosa Vulpe. 11 le misure cautelare notificate ad altrettante persone. Per 4 arrestati è stato disposto il carcere, per altrettanti domiciliari e per 3 indagati l'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria. A tutti il GIP contesta l'Associazione per delinquere è finalizzata la commissione di furti aggravati. Le indagini dei militari di Napoli Chiaia sono scattate dopo il colpo messo a segno a una società di ormeggi napoletana. La notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2015 che fruttò 250.000 euro ai malviventi, denaro destinato alle buste paga dei dipendenti. Inizialmente le indagini si erano concentrate su un dipendente infedele, poi si sono concentrate invece sulla banda che per mettere a segno i colpi bussava alla porta una al massimo due volte. In mancanza di una risposta la notte stesso, al massimo il giorno seguente, entrava in azione. Una decina i furti che sono stati addebitati agli indagati. Nel Sannio i carabinieri della compagnia di Montesarchio hanno rintracciato e arrestato un trentenne napoletano colpito da un'ordinanza di custodia cautelare adottata dal GIP di Napoli su richiesta della DDA nelle indagini sul tentato omicidio di Giovanni Bellofiore avvenuto nel 2016 nell'ambito della lotta tra clan per l'egemonia sul territorio. L'inchiesta riguarda quattro persone, una è stata arrestata alcuni giorni fa dalla mobile partenopea e ipotizza anche le accuse di rapina a mano armata, porto e detenzione abusiva di armi con l'aggravante prevista di aver agevolato le attività criminali di un clan partenopeo. Spari contro l'auto con a bordo il padre del presunto killer di Ciro Donofrio, il 36enne salernitano ucciso il 30 luglio del 2017 nel quartiere di Pastena. Un colpo di pistola, forse un avvertimento prima dell'interrogatorio di Eugenio Siniscalchi in carcere per il delitto. Si spara ancora a Salerno, forse un avvertimento, un'intimidazione proprio il giorno prima dell'interrogatorio del presunto killer di Ciro Donofrio, Eugenio Siniscalchi, e il giorno dopo la notifica del provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di quest'ultimo. Nel mirino finiscono i parenti di Siniscalchi, il giovane che avrebbe freddato Donofrio il 30 luglio del 2017 nel popoloso quartiere di Pastena. Nel pomeriggio di ieri, il padre dell'arrestato, accompagnato da alcuni familiari, stava raggiungendo Salerno. Contro di loro è stato esploso un colpo di alma da fuoco lungo la strada che da Matierno conduce a Fratte. Uno scooter avrebbe affiancato la vettura, a bordo due giovani avvolto scoperto che sarebbero stati riconosciuti dalle vittime dell'agguato che si sono recati dalle forze dell'ordine per denunciare quanto accaduto, indaga la polizia. Intanto in queste ore Eugenio Siniscalchi è sottoposto ad interrogatorio di garanzia dal GIP Marilena Albarano. Lo sparo potrebbe essere un avvertimento a non parlare di qualcosa. La vittima, il suo aguzzino e le rispettive famiglie avrebbero litigato in diverse occasioni. Debiti di droga e rancori e dissapori personali. Da un'intercettazione emergerebbe come Donofrio Junior avesse espresso il desiderio di vendicare la morte del padre, lo avrebbe detto proprio al fratello del presunto killer, come riportato nell'ordinanza del GIP. Vi devo lasciare morti a terra, a te e a tuo fratello. Mia figlia, vittima di sette sataniche alle quali ha elargito 316 mila euro e il grido d'allarme di una vedova di 83 anni residente nell'Interland a nord di Napoli, preoccupata per la sorte della figlia di 38 anni. L'83enne ha presentato una denuncia sia alla procura di Napoli nell'ottobre scorso e gli inquirenti hanno rimandato il caso alla procura di Perugia in quanto la presunta setta satanica sarebbe radicata in quella zona del centro d'Italia. Da allora però nessuna notizia. Ora l'anziana lancia un nuovo appello alla magistratura. Ed esulta il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, commentando la sentenza della Cassazione, che dice no al pasto portato da casa per gli alunni delle scuole. A Benevento la questione aveva dato vita a molte polemiche. Vediamo il servizio. No al panino libero a scuola, esulta il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, commentando la sentenza delle sezioni unite della Cassazione, che dice no al pasto da casa, accogliendo il ricorso del comune di Torino e del ministero dell'istruzione e ribaltando una pronuncia favorevole ai genitori degli alunni. Una vittoria anche per Mastella, che durante la complicata vicenda, analoga della mensa scolastica, Benevento aveva sempre preferito il servizio di refezione unico. La soddisfazione è normale. Dopo gli attacchi, in maniera disinvolta, che abbiamo ricevuto io e la mia amministrazione, abbiamo fatto una scelta che era quella un'uguaglianza. A me non piace vedere all'interno della scuola pubblica differenza tra chi è più ricco e chi è più povero. E il panino che li portava da casa era l'idea di una scuola ricca, una scuola per povere, non mi piace. Che non è un'egualitarismo oltranza, assolutamente no, un'eguaglianza come prescrive la Costituzione. Quindi la Cassazione a sezione uniti, il che significa che non c'è possibilità di appello, ha sentenziato questo. Invito i genitori della città a iscrivere i figli per quanto riguarda la mensa perché non sarà consentito per legge che possono portare il panino libero a scuola. Quindi di farlo in modo tale consentire anche a chi deve organizzare la mensa in maniera dettagliata che ci sarà un aumento di due o trecento persone in più. E quindi che significherà? Spera un'occupazione per alcuni o magari definire al meglio di quelli che già lavorano là. Quindi è una cosa molto molto importante per l'economia diciamo di alcune persone e di alcune famiglie. E andiamo ad Avellino passano con 20 voti favorevoli e 11 contrari gli indirizzi di governo dell'amministrazione targata Gianluca Festa Ribaltone nei 5 Stelle che si spaccano mentre il PD fa cadere nel vuoto l'appello all'unità del commissario Iacovacci e Cipriano sparano a zero su Festa Non sei un sindaco libero Vediamo il servizio Il progetto di una Enjoy City di Gianluca Festa passa in aula ad ampia maggioranza e il neosindaco incassa anche il voto favorevole di Luigi Urciuoli consigliere dei 5 Stelle che sposa le linee di governo di Festa e spacca il gruppo all'opposizione Festa rilancia il programma che lo ha fatto vincere al ballottaggio e promette cinque anni di grandi cambiamenti ambiente, periferie senso di appartenenza e i tre perni sui quali si regge la linea di governo Dobbiamo far sì che Avellino torni a essere grande come ho detto che diventi una Enjoy City una città nella quale si è contenti di vivere e chi viene è contento di starci Nessuna apertura di credito dalle opposizioni che hanno criticato ferocemente il programma con quali soldi e in che tempi intende attuarlo non è dato ancora sapere ma è dal PD che Festa riceve gli attacchi più forti il più duro è quello del capo gruppo DEM Ettore Iacovacci che ribadisce la massima contrapposizione alla sua proposta in aula il commissario del PD Cennamo il suo appello all'unità e al dialogo è caluto nel vuoto infine la coda al vetriolo riservata a Luca Cipriano che da un lato accusa Festa di non essere un sindaco libero dall'altro offre collaborazione e apre al dialogo in tutta risposta Festa gli ha chiuso la porta in faccia spiegato Cipriano nel corso della trasmissione Punto di Vista Allora secondo me così si inizia malissimo c'è stato da parte mia un tentativo di apertura e di dialogo il sindaco lo rimanda al mittente lo condisce di battutine e sorrisi velenosi io non credo che la città abbia bisogno di questo Festa ha sciupato la prima occasione ha disatteso l'appello del commissario Cennamo e credo che se il clima sarà questo di pacificazione non solo è complesso ma non se ne parla proprio Salerno a lutto per la prematura scomparsa di Francesco Colucci il direttore dell'Adis Work figura importante di riferimento del campus di Fisciano nel settore della comunicazione è morto a 49 anni stroncato da un malore improvviso lasciando moglie e due figlie a nome mio dell'aggiunta del consiglio comunale di Salerno esprimo cordoio per la prematura scomparsa di Colucci già consigliere comunale della città di Salerno a dirlo il sindaco Vincenzo Napoli perdiamo un uomo buono e giusto si uniscono al cordoio per la scomparsa improvvisa del professionista anche l'università di Salerno e il sindaco la giunta di Baronissi di funerali domani mattina a Cava dei Tirreni alle 9.30 nella chiesa di Sant'Anna quota 100 per il pensionamento anticipato la campagna è terza per numero di domande presentate a Napoli invece è boom di richieste intanto domani si apre la prima finestra utile per i dipendenti pubblici vediamo si apre domani la prima finestra utile per i dipendenti pubblici per aderire alla misura quota 100 varata dal governo e che consentirà molti tanto atteso pensionamento un fenomeno che secondo i sindacati avrebbe interessato soprattutto i dipendenti pubblici meno quelli privati che avrebbero incontrato maggiori difficoltà a raggiungere i 38 anni di contributi previsti che insieme al compimento del 62esimo anno d'età formano i requisiti necessari per potersi ritirare in anticipo dal lavoro la campagna è la terza regione per numero di domande presentate all'Inps prima ci sono solo Lazio e Lombardia a Napoli infatti è già boom di richieste circa 7.000 le domande di pensionamento anticipato 1.300 le uscite previste entro settembre ma il comune di Napoli prova a correre ripari con l'assunzione da ieri di circa 309 unità nello specifico dovrebbero essere 600 i pensionamenti per scadenza normale dell'attività lavorativa 700 per quota 100 la cui prima finestra utile si apre proprio domani ancora difficile dunque calcolare con esattezza in quanti nelle prossime ore accederanno ancora a questa misura intanto secondo gli ultimi dati disponibili delle domande presentate in campagna le circa 7.000 richieste pervenute da Napoli si aggiungono le 3.180 di Salerno 2.212 domande prodotte a Caserta 1.141 ad Avellino e 816 a Benevento dalla città metropolitana alle aree interne dunque in tanti sono pronti a lasciare uffici e scrivanie di qui la necessità secondo il segretario della Cisle Irpini Asagno Mario Melchionna di provvedere al più presso a sbloccare il turnover per poter garantire un ricambio generazionale soprattutto in settori come scuola e sanità non c'è mai stato un utilizzo in debito dei rimborsi destinati ai consiglieri regionali così la Corte dei Conti ha completamente scagionato la Presidente del Consiglio regionale della Campania Rosetta D'Amelio la decisione della Corte dei Conti è per me un motivo di grande soddisfazione dice la D'Amelio in quanto ristabilisce la verità dei fatti e mi consente di rispondere a testa alta alla propaganda becera messa in piedi con toni sprezzanti in particolare sul web da parte di chi volle strumentalizzare la pronuncia in primo grado per giorni aggiunge la D'Amelio lessi anche su quotidiani nazionali titoloni lesivi della mia immagine e onorabilità ringrazio quanti in quelle giornate non mi fecero mancare stima e affetto conoscendo la mia storia personale fatta di onestà e rispetto delle istituzioni e dei cittadini che mi hanno sempre letta e per i quali cerco nel mio piccolo di essere quotidianamente a disposizione conclude la D'Amelio tavolo in prefettura questa mattina ad Avellino sull'annunciata emergenza rifiuti in Campania che toccherà anche Avellino e provincia presenti oltre al prefetto Maria Tirone anche i rappresentanti delle forze dell'ordine e l'amministratore unico di Irpini Ambiente Nicola Boccalone vediamo il servizio tavolo in prefettura ad Avellino sull'annunciata emergenza rifiuti in Campania che colpirà anche la provincia irpina presenti oltre al prefetto Tirone anche i rappresentanti delle forze dell'ordine e l'amministratore unico di Irpini Ambiente Nicola Boccalone allo stir siamo pronti per fronteggiare l'emergenza che durerà 40 giorni naturalmente le incognite in una situazione del genere sono sempre dietro l'angolo abbiamo predisposto tutto sul piano amministrativo siamo pronti per efficientare l'intervento sostenere l'esigenza di dare risposte sul piano della sicurezza e quant'altro e quindi abbiamo spiegato tutte le cose abbiamo rappresentato lo stato dell'arte e credo che ci siamo alzati tutti tranquilli che le balle che produrremo a piano d'ardine saranno allocate dove ce ne erano 30.000 ne verranno allocate 3.000 questa è la sostanza del ragionamento se nel tempo dovesse esserci qualche problema ci attrezzeremo Boccalone si è soffermato anche sul suo futuro alla guida della società di via Cannaviello non è poi così scontato che io vada via a settembre c'è avuto un allenatore che si chiama Boscov non so se vuole ricordare Boscov diceva quando palla entra in rete l'abito fischia a cu giusto? McDonald's apre un nuovo ristorante nel cuore di Salerno 800 metri quadri su tre piani nello storico Palazzo Natella per il sindaco di Napoli un importante investimento che premia la città Sarabotte apre i battenti nel cuore di Salerno in via Roma un nuovo punto McDonald's 45 posti di lavoro per un ristorante su tre piani dotato di 180 posti a sedere tra interno e esterno e che si estende su un'area di 800 metri quadri l'inaugurazione domani pomeriggio nello storico Palazzo Natella Salerno fa parte di un progetto che è stato annunciato al nostro amministratore delegato l'altro anno che riguarda circa 20 aperture nei prossimi cinque anni nella regione Salerno ci è particolarmente come dire cara perché questo progetto è un progetto che è stato sviluppato a Palazzo Natella che è uno dei palazzi storici e che era veramente una grande scommessa ci sarà il McCaffè voi sapete che McDonald's i McCaffè sono molto sviluppati sia in Italia che in Europa ci sarà un servizio feste sarà aperto ogni giorno fino a luna e poi ci sarà una take away una finestra take away da luna di notte fino alle prime ore del mattino oggi è importante dire che ci sarà uno store tour molto breve di un paio di ore perché intendiamo dare alla popolazione locale che abbia voglia ai nostri clienti affezionati la possibilità di vedere in anteprima il locale gli offriremo qualche bibita qualche piccolo gadget un legame sempre forte quello di McDonald's con il territorio salernitano una sfida che McDonald's ha voluto fare a Salerno dando atto alla nostra città di essere una città dal punto di vista logistico importante un territorio contendibile un luogo tranquillo per l'imprenditore siamo molto felici che McDonald's abbiamo buttato in città il McDonald's è comunque un simbolo un marchio la M gialla distintivo identitario comunque di una città poi dove c'è movimento dove c'è famiglie c'è comunque gioia e comunque si crea un indotto a chi piace un panino a chi piace un gelato a chi piace una pizza e siamo contenti che apre le porte uno dei locali più belli della nostra Salerno l'Irpinia rievoca la storia inaugurato a Biogem un cippo dedicato all'assise di Ariano gli atti legislativi emanati dal re di Sicilia Ruggero II un evento salutato con una festa di mezza estate dal presidente dell'istituto di ricerca arianese Ortenzo Zecchino vediamo un cippo dedicato alle assise di Ariano gli atti legislativi emanati da Ruggero II re di Sicilia nel 1140-1142 una nuova e ricca biblioteca l'ampliamento del giardino botanico curato nei minimi dettagli e il perfezionamento acustico dell'aula magna per dare ancora più valore alla musica Biogem perfezione ai suoi spazi e lo fa dando vita ad una festa di mezza estate la soddisfazione del presidente dell'istituto di ricerca arianese Ortenzo Zecchino abbiamo voluto migliorare l'estetica come ho detto anche per renderci più presentabili agli ospiti e quindi avevamo già il giardino botanico l'abbiamo ampliato con questa bella novità abbiamo poi voluto fare mettere sulla biblioteca abbiamo sistemato la sala aula magna che dal punto di vista dell'acustica pare che non fosse idonea a ospitare grandi concerti e quindi un po' di cose insieme e poi abbiamo voluto fare questa cosa di questo cippo che ricorda le assise di Ariano che sono state fatte in questa zona di Camporeale e noi abbiamo voluto sacralizzare questa memoria sulla pietra ogni cosa ha un significato a partire dagli alberi è certo poi ho ricordato che noi abbiamo dato un piccolo contributo abbiamo piantato complessivamente 1240 alberi più questo liveto insomma anche dal punto di vista naturalistico abbiamo diamo dei contributi scientifici e naturalistici è la ultima notizia il TG termina qui grazie di averci seguito vi auguro una buona giornata grazie a tutti